La cassata siciliana è un dolce molto antico. Questo è il pan di spagna. Ora Maria Pena lo taglierà, farà due tagli e lo mette nella teglia, la teglia foderata con la pellicola trasparente. Il pan di spagna va bagnato con la bagna. Allora, va tagliato a striscioline di 5-6 cm per foderare intorno, per metterlo intorno alla teglia. Ora la bagna anche. Adesso va inserita la ricotta. Questa deve rimanere un'intera notte in frigorifero, per come è stata predisposta. Sono trascorse per 12 ore, quindi possiamo tirare la nostra cassata dal frigo per decorarla. Innanzitutto va fatta la pasta di marzapane, che andrà a ricoprire tutta la cassata. Incominciamo a mettere i pezzetti di frutta candita. Un dolce siciliano, un dolce di altri tempi questo qua.